E' il nostro pellegrinaggio regionale che noi facciamo tutti gli anni, da un paio di anni lo facciamo in aereo, non più in treno. E' rivolto a tutti, a tutti coloro che vogliono partecipare al nostro pellegrinaggio, malati, pellegrini e anche personale, persone che vogliono aiutare, che vogliono dare una mano e scoprire appunto la nostra associazione ma anche il messaggio di Lourdes. Quest'anno il pellegrinaggio sarà presieduto dal Vescovo De Vasini. Esatto, noi abbiamo invitato Monsignor De Vasini già l'anno scorso nei nostri primi incontri quando lui è arrivato nella nostra diocesi e qualche giorno fa abbiamo avuto la conferma che parteciperà con noi al nostro pellegrinaggio dal 2 al 5 settembre. Come verranno scandite queste giornate di pellegrinaggio? Il nostro pellegrinaggio prevede molte celebrazioni, le celebrazioni classiche del santuario che sono la processione al flambeau, il rosario alla grotta che sono quelle più sentite ma anche momenti più intimi, momenti che noi viviamo con i nostri piccoli gruppi magari di malati o di pellegrini. Non ci sono solo celebrazioni importanti, fra virgolette, ma i nostri pellegrinaggi sono anche momenti tra due o tre persone, momenti di scambio di idee, di chiacchiere, prendere un gelato con una persona, prendere un caffè. Non sono solo messe o processioni, ma sono proprio le relazioni personali che si creano nei nostri pellegrinaggi che sono molto importanti. Come fare per iscriversi? Le iscrizioni possono essere fatte nella nostra sede di via Sarotti 1Q qui a Chiavari al martedì e al sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30 o altrimenti su appuntamento.